Molti giornali stanno gridando da giorni all'allarme meteo per il caldo e il maltempo, usando toni spesso apocalittici. Ora, la situazione un po' apocalittica lo è davvero, però soffiare sul fuoco dell'allarmismo forse non è una buona soluzione. Come si fa però a fare un'informazione climatica responsabile? Proviamo a capirlo. Parliamo anche del mistero sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, del Parlamento israeliano che approva la prima parte della riforma sulla giustizia, degli incendi in Grecia e di un piccolo miracolo climatico in California. Io sono Andrea L'Innocenti, oggi è il 25 luglio 2023 e questo è No Mi Rassegno, la siena stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Gli eventi climatici estremi continuano a bersagliare il nostro paese. Il nord Italia è flagellato da nubi fragili, temporali e grandinate, mentre al sud si muore letteralmente di caldo. A Milano piogge e venti forti hanno causato alberi abbattuti, strade allagate e tetti scoperchiati. In Brianza una donna è morta schiacciata da un albero, mentre un aereo invece diretto a New York è stato danneggiato ed è stato costretto ad atterrare a Roma. Al centro-sud invece è stato il caldo a causare problemi. A Sora una persona è morta proprio per il caldo, mentre in Sicilia le temperature estreme stanno causando continui blackout alla rete elettrica. E a Olbia tre voli non sono atterrati per la pista, troppo rovente. Insomma, la situazione è questa, la crisi climatica è imperversa e sta colpendo prima e forse più duramente di quanto avremmo immaginato e previsto. Al tempo stesso però ha iniziato a imperversare, passatemi il termine, anche un dibattito che devo dire ho trovato interessante sul tema del clima e del meteo, che mi ha fatto riflettere anche perché tira molto in ballo l'informazione, il ruolo dell'informazione. In pratica ci sono alcuni meteorologi che hanno iniziato ad accusare la stampa di fare terrorismo mediatico sul tema del meteo e del caldo estremo e questa cosa mi ha portato a fare un po' di riflessioni e anche un po' di autocritica su alcune cose, però vabbè ci arriviamo, intanto vediamo che cosa è successo. L'argomento del dibattito sarebbe che molti giornali hanno scelto toni piuttosto allarmistici per descrivere l'ondata di meteo estremo che sta attraversando l'Italia e diverse altre parti del mondo in realtà, usando termine e a volte sparando anche temperature considerate un po' esagerate. Ad esempio Paolo Sottocorona, meteorologo di La Sette, ha detto in trasmissione che i giornali hanno gonfiato l'allarme meteo in maniera appunto esagerata, da lì si è scatenato un certo putiferio mediatico con Sottocorona che è stato accusato di essere un negazionista del clima da varie parti. Il meteorologo a quel punto ha risposto in una intervista a Repubblica di cui vi leggo alcuni estratti che mi sembrano interessanti. Dice Sottocorona, la crisi del clima è grave ma non serve a sparare temperature esagerate. Non sono mai stato un negazionista, da 50 anni tutti i giorni osservo il tempo, il cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Penso che l'auto su cui ci troviamo stia sbandando e occorre intervenire al più presto, ma non sopporto le esagerazioni. In Italia abbiamo registrato ieri 40 gradi, ieri è riferito in realtà a 4 giorni fa se non sbaglio, e solo in alcune zone. Chi inventa nomi come Caronte e preannuncia che arriveremo a 47 gradi sapendo che non è vero, solo per avere più click al proprio sito, andrebbe denunciato per procurato allarme. Il riferimento è ovviamente al sito Il Meteo e probabilmente anche un po' una frecciata a Repubblica che lo sta intervistando e che ospita di tanto in tanto gli articoli appunto del Meteo.it, tipo quello che abbiamo commentato venerdì insieme. Vi leggo ancora altri pezzetti d'intervista. Proprio perché non è una sciocchezza, dice il meteorologo, andrebbe trattato con equilibrio. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto è urlato, ma non si possono esporre le persone a messaggi terroristici. Molti italiani sono anziani, una buona quota non ha l'aria condizionata. Sapere che domani ci saranno 47 gradi genera ansia. È come se io scendessi in strada urlando che sta per arrivare un terremoto. A quel punto la giornalista Elena Duse, che lo sta intervistando, gli ricorda che a fare quelle previsioni sono i suoi colleghi, insomma meteorologi come lui, al che risponde di nuovo Arrivano da siti di meteorologia che mettono in giro nomi spaventosi come Caronte e che vivono dei click delle persone angosciate. È da quando sono entrato in aeronautica nel 1972 che si parla di istituire un ordine dei meteorologi, ma non si è mai fatto nulla. Perché se io prescrivo una cura medica giustamente mi arrestano, ma nessuno fa nulla di fronte a previsioni meteo così sparate? La mia è una crociata contro le esagerazioni. E poi dice ancora più avanti, può darsi che in qualche località italiana si tocchi un picco per breve tempo, ma non in modo diffuso. Non c'è alcun dato a sostenere una previsione del genere, almeno non ancora. E alla domanda finale, il nostro governo fa abbastanza per contrastare la crisi climatica? La replica è, nessuno fa abbastanza, è necessario cambiare la nostra fonte di energia, non possiamo basarci più sui combustibili fossili e bisogna agire in fretta perché siamo già in ritardo. Alla voce di Sottocorona si è poi aggiunta anche quella di Mario Giuliacci, il colonnello Giuliacci reso celebre da Striscia la Notizia, che ha dato manforte al collega in un'intervista sul Libero in cui dice che questa non sarà, almeno in Italia, l'estate più calda di sempre. Ora, al netto del fatto che queste esternazioni, che in queste esternazioni ci possa essere un po' uno strizzare l'occhio al governo e a politiche climatiche, diciamo, poco attive, però penso che ci sia un pezzetto di verità in tutto ciò. Nell'articolo che commentavamo venerdì, pubblicato su Repubblica a firma del meteo, ad esempio, si parlava di scenari effettivamente apocalittici, usando proprio questa espressione qua, si parlava di vette oltre i 47 gradi e cose di questo genere. Devo dire che oggi, alla luce di queste riflessioni che abbiamo appena fatto, ci vedo sia un lato positivo nel collegare direttamente e inequivocabilmente il tema del meteo a quello del clima, ma anche una buona dose di allarmismo mediatico. Ora, intendiamoci, l'allarme c'è, c'è e come, non è niente di inventato, non possiamo nasconderci dietro un dito, ormai abbiamo cataste, cumuli di prove che il cambiamento climatico dipende dalle emissioni di gas clima alteranti come risultato delle azioni umane e abbiamo altrettante prove che la situazione sia drammatica e stia peggiorando in maniera anche più rapida del previsto. Siamo complessivamente vicini, se non oltre, a un punto di non ritorno climatico, ma mi viene da chiedermi, usare toni apocalittici aiuta in questo? E soprattutto parlare così tanto in maniera così allarmistica di singoli eventi meteorologici aiuta o genera soltanto il panico? Perché in genere le reazioni a un segnale ripetuto di allarme estremo sono tendenzialmente due, appunto, o la negazione o il panico. È difficile invece avere reazioni costruttive. E difatti a livello mediatico si stanno creando un po' due affazioni, quindi chi soffia sul fuoco dell'allarmismo e chi dall'altro lato nega persino che esista il fenomeno del cambiamento climatico o, visto che ormai è praticamente innegabile, dice non dipende da noi, è sempre esistito. Portando argomentazioni del tipo, d'estate va sempre fatto caldo, il clima è sempre cambiato e cose di questo genere. A livello di pancia, personalmente capisco di più chi fa allarmismo rispetto a chi nega il problema, perché il problema c'è, è enorme, è gigantesco e quindi un po' sento anch'io quella spinta a dire ok, muoviamoci, facciamo qualcosa, siamo nei casini. A livello più razionale però, credo che siano entrambe la negazione e l'allarmismo reazioni, risposte umane disfunzionali di fronte a un problema, quindi o negarne l'esistenza o andare nel panico. Sono entrambe disfunzionali perché, se è abbastanza evidente che negare l'esistenza del problema non ci aiuti a risolverlo, anche il panico non ci aiuta a cambiare, non aiuta a fare scelte sagge e pensate, non aiuta appunto a risolvere i problemi. Nel panico non facciamo cambiamenti, anzi in genere ci rifugiamo nelle vecchie certezze, perché ogni cosa nuova che facciamo sarebbe realisticamente un disastro, proprio per via del panico. Ma quindi come si fa? C'è un modo per non negare l'urgenza e la drammaticità della crisi climatica e al tempo stesso fare un tipo di informazione responsabile? Ecco, mi sono ricordato che qualche giorno fa sul gruppo Facebook del Transition Network Italia era stato condiviso uno studio che aveva qualcosa a che fare con questa tematica. Si chiama Ridurre l'ansia climatica personale è fondamentale per l'adattamento ed è stato pubblicato su Natural Climate Change, allora sono andato a rileggermelo e quello che ho trovato mi è sembrato davvero interessante. Gli autori cercano di capire qual è il modo più costruttivo di affrontare la crisi climatica e giungono a concludere che consiste nell'adottare strategie personali di adattamento. In pratica di fronte all'ecoansia, alla solastalgia o chiamatela come vi pare insomma alla paura del cambiamento climatico, la cosa più funzionale e più utile è fare qualcosa, fare qualcosa a livello personale per ridurre il rischio dell'impatto del cambiamento climatico sulla propria vita. Quindi apportare un cambiamento nelle proprie vite e nelle proprie abitudini, di questo stiamo parlando. Queste azioni possono essere anche apparentemente piccole secondo gli autori, ma possono innescare un meccanismo molto virtuoso che funziona un po' così. Compiere un'azione anche piccola riduce quasi istantaneamente l'ansia e al tempo stesso fa nascere in chi la compie una percezione di auto-efficacia e speranza per il futuro che a sua volta catalizza un'azione collettiva di adattamento. Infatti, leggo dall'articolo, è dimostrato che le azioni personali per ridurre il cambiamento climatico non solo hanno benefici nell'estremità negativa dello spettro delle emozioni, ma hanno anche il potenziale di catalizzare la gemella buona dell'ansia, la speranza. Infatti promuovendo la speranza, le azioni per il clima a livello personale hanno il potenziale di catalizzare benefici a livello di gruppo, fra cui un'elevata percezione di auto-efficacia collettiva e un'azione collettiva di adattamento. Questo è scritto un po' in scientifichese, però più o meno credo che si capisca. Quindi ecco, anche un'azione piccola che apparentemente non salverà il genere umano dall'estinzione e non avrà un impatto così significativo, potrebbe per una serie di effetti collaterali generare delle reazioni a catena su tutto il sistema. E in questo senso, devo dire, ci do una pacca sulla spalla in quanto Italia che cambia, perché da anni cerchiamo di fare proprio questo, raccontare chi queste azioni le compie e aiutare, quindi facilitare questo effetto moltiplicatore. Dal canto mio, proverò comunque a dare le notizie sul meteo e sul clima con un pelo ancora di attenzione in più per gli effetti che possono generare. Piccola pausa dalle notizie. Prendo un brevissimo spazio qui per dirvi che esiste una newsletter dedicata a Io non mi rassegno. Fin qui l'abbiamo utilizzata in maniera molto basica, ma da settembre inizieremo una serie di attività nuove dedicate proprio agli iscritti alla newsletter. Ad esempio, la rubrica Trova il bias, di cui so che molti e molti di voi sono appassionati giocatori, diventerà un appuntamento mensile fisso dedicato a chi è iscritto alla newsletter con anche un premio vero per chi vince, non che la maglietta autografata da cingolanni non lo fosse, ce ne ho decine a casa pronte per essere sperite, ma no, ci sarà veramente un premio vero per chi vince la rubrica Trova il bias. Quindi il consiglio spassionato è iscrivetevi alla newsletter, la trovate qui in sovrimpressione sul video su YouTube oppure in descrizione sia del video YouTube che del podcast che sia su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast o ovunque lo stiate ascoltando o infine sulla pagina rassegna stampa di talechecambia.org cliccando nell'apposito bottone. Quindi insomma, mi raccomando, è abbastanza semplice e vi permette anche appunto di restare aggiornati sulle tante novità che accadranno al mondo di Io non mi rassegno. C'è una sorta di mistero che circonda la morte di Andrea Purgatori, uno dei giornalisti di inchiesta più noti del nostro paese, noto soprattutto per aver lavorato sulla strage di Ustica e sul rapimento di Emanuela Orlandi. È un caso, devo dire, davvero assurdo che potrebbe essere forse uno dei maggiori casi di malasanità noti in Italia, perlomeno fra quelli che riguardano personaggi conosciuti, o forse persino nascondere qualcos'altro, non lo sappiamo ancora. Comunque è uno di quei casi su cui probabilmente Purgatori stesso avrebbe indagato e ironia della sorte né invece il protagonista, la vittima. Vi provo a ricostruire la vicenda a partire da un articolo di Valeria Di Corrado sul messaggero. A fine aprile il giornalista, che godeva apparentemente di buona salute, si è fatto una serie di esami per via di un senso di spossatezza che non lo abbandonava, esami da cui risultano alcuni valori sballati. A quel punto, ai primi di maggio, Purgatori si reca dal professor Gianfranco Gualdi, responsabile della radiologia della clinica Pio XI, che è considerato una sorta di luminare della radiologia, conosciuto anche come il radiologo dei papi, dal 1981 è consulente radiologo del Vaticano, è stato anche responsabile del servizio di radiodiagnostica per la Roma Calcio dal 1977 al 2000, insomma, non è esattamente uno di primo pelo. La diagnosi di Gualdi è tremenda, tumore al polmone con metastasi al cervello. Da qui la scelta di sottoporlo a una radioterapia ad alto dosaggio, all'encefalo, al cervello, immediata praticamente. Purgatori viene quindi sottoposta a questa pesantissima terapia radiologica ad altissimo dosaggio, che però, dopo un brevissimo miglioramento, sembra in realtà aggravare le condizioni del giornalista, che il 12 giugno si sottopone ad un'altra TAC presso un laboratorio della Sapienza. Qui un altro professore noto, molto noto, Alessandro Bozzao, professore di neuroradiologia alla Sapienza e responsabile dell'unità relativa al Sant'Andrea, fa una scoperta a dir poco assurda. La TAC non rileva infatti la presenza di nessuna metastasi al cervello, ma solo tracce di ischemie cerebrali. Un quadro confermato poi anche da un'ulteriore risonanza effettuata in un'altra struttura, in cui un altro luminare avrebbe detto ai parenti di Purgatori che non solo le metastasi al cervello non c'erano, ma anche che è del tutto impossibile, queste sono sue testuali parole, almeno per come vengono riportate dall'articolo del Messaggero, confondere le metastasi con delle ischemie cerebrali. Del tutto impossibile. A quel punto, fra Gualdo e Bozzao, i due professori, ci sarebbe stata anche una lite abbastanza furibonda, con accuse reciproche, a cui avrebbe assistito anche la famiglia di Purgatori. Le condizioni di Purgatori però sono tragiche e nel giro di pochi giorni il giornalista muore. In questo quadro clinico, fra l'altro, prenderebbe forma l'ipotesi che a causare il decesso di Purgatori, debilitato dalla radioterapia, soprattutto dalla radioterapia, possa essere stata un'infezione al cuore, ovvero una pericardite esettica. Comunque, dopo la morte di Purgatori, è scattato da parte della famiglia l'esposto in procura. I PM hanno chiesto ai propri consulenti di indicare l'epoca della morte, la causa della stessa, i mezzi che l'hanno determinata e ogni altra circostanza utile. Avranno 60 giorni per spiegare se siano stati commessi atti di imprudenza, negligenza e a chi siano addebitabili. I medici dovranno quindi verificare, partendo dall'attack che verrà eseguita oggi, se vi fossero realmente delle metastasi al cervello, oppure no, e se il decesso di Purgatori sia stato determinato dagli effetti collaterali della radioterapia all'encefalo. Bisognerà, insomma, stabilire se vi sia un esso causale fra la terapia somministrata sulla base di un'eventuale diagnosi errata, molto errata, da parte del professor Gualdi e la morte del giornalista. Ecco, è una di quelle storie da seguire davvero con attenzione e sulla quale mantenere al momento molta cautela anche nei giudizi, nel senso che sento già una vocina nel mio e nel vostro cervello che inizia a immaginare trame oscure legate alla scomparsa di Emanuele Orlandi, allo IOR, al Vaticano, al fatto che il radiologo in questione fosse il radiologo del Vaticano, che ha fatto una diagnosi sbagliata, forse, e forse ha prescritto una terapia sbagliata. Sicuramente è una traccia interessante da seguire, però Purgatori stesso ci avrebbe insegnato che prima di fare ipotesi specifiche è bene raccogliere prove. Quindi per adesso è una vicenda strana di malasanità. In futuro vedremo che cosa si rivelerà. Va bene, vi do tre notizie molto molto al volo, anche se tutte e tre molto importanti, ma oggi c'erano tante cose che mi interessava approfondire. La prima è che il Parlamento israeliano ha approvato la prima parte della contestata riforma della giustizia proposta dal governo di destra, di Benjamin Netanyahu, che prevede misure per togliere alcuni poteri alla Corte Suprema e affidarli al governo. Durante il voto che è avvenuto ieri in mattinata, l'opposizione ha lasciato l'aula in segno di protesta. Da mesi questa riforma è al centro di tantissime proteste e la questione politica più discussa nel paese ha dato vita alle manifestazioni più enormi che si ricordino in Israele da decenni e chi vi si oppone considera questa legge una minaccia per la democrazia. Il voto, fra l'altro, è stato accompagnato da nuove proteste fuori dal Parlamento israeliano che vanno avanti dal fine settimana, sono stati anche scontri con la polizia e almeno 19 persone sono state arrestate. La parte votata oggi è appunto la prima parte della riforma, quella che impedirà alla Corte di bloccare le decisioni del Governo sulla base del concetto legale di irragionevolezza, ovvero fino a ieri la Corte Suprema poteva intervenire su provvedimenti amministrativi approvati dal Governo e abolirli se li riteneva in qualche modo irragionevoli. Un strumento che negli ultimi anni la Corte ha usato in più occasioni ad esempio impenendo a Netanyahu di assegnare il Ministero dell'Economia a un suo alleato che era stato condannato per fraude fiscali. Ecco, cose di questo genere da ieri non possono più essere effettuate in Israele. Vedremo cosa succederà a livello di proteste e cosa succederà anche a livello di prossimi passi per approvare altre parti della riforma. Vi segnalo fra l'altro che se masticate l'inglese c'è una bella intervista proprio a Benjamin Netanyahu da parte di Lex Friedman uno dei più famosi podcaster del mondo che va molto a fondo sulle varie questioni così delicate per usare un eufemismo che riguardano il Premier israeliano. Ve la consiglio ve la metto sotto fonti e articoli sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia punto org Seconda notizia volante è che la Grecia è alle prese con la gestione di una serie di incendi che stanno mettendo in crisi alcune isole e distruggendo ettal di vegetazione e anche centinaia di abitazioni. Nel fine settimana sono state evacuate oltre 19.000 persone solo nell'isola di Rodi e un articolo del Post racconta che il Ministero Greco del Cambiamento Climatico e della Protezione Civile ha detto che quella che sta interessando Rodi è la più grande evacuazione a causa di un incendio nel paese mai registrata. Nel frattempo hanno cominciato a svilupparsi decine di incendi che hanno portato a nuove ordini di evacuazione anche in altre isole greche fra cui Corfu ed Eubea. Secondo Costantia di Moglidou una portavoce della polizia greca complessivamente sarebbero state evacuate oltre 30.000 persone in tutta la Grecia di cui persino 6-7.000 sarebbero turisti italiani. Ultima notizia del giorno in California invece è successo qualcosa di anomalo ma al contrario qualcosa che il Washington Post definisce un miracolo climatico. I californiani si stavano preparando per un ennesimo anno di siccità la California è uno degli stati americani più colpiti della siccità mentre invece hanno avuto mesi di pioggia incessante e alcune delle nevicate più abbondanti mai viste. I californiani temevano anche che le raffiche di calore primaverili avrebbero rapidamente trasformato la neve in alluvioni aggiungendosi alla devastazione provocata da una serie di tempeste invernali ma fino a poco tempo fa le temperature sono rimaste misericordiosamente fresche consentendo uno scioglimento lento costante e graduale quindi il risultato è stato un ritorno dell'acqua in California che ha cancellato le mappe della siccità ha alimentato i sistemi di irrigazione da troppo tempo a secco e ha fatto sperare che dopo mesi in cui l'acqua è uscita dalle porte i bacini idrici termineranno il periodo estivo praticamente pieni è stata una trasformazione davvero netta e sbalorditiva con paesaggi aridi e fiumi a secco sostituiti in poche settimane da laghi gonfi cascate zampillanti e cime innevate invece di compare acqua di falda per mantenere le colture gli agricoltori hanno accesso adesso a canali pieni che trasportano più acqua di quante ne possano utilizzare ed è sicuramente un'eccezione in tempi di crisi climatica però ecco diciamo un'eccezione per una volta positiva detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qui io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre a partire dalle 8 su canali youtube sprechete spotify nonché sulla pagina ricordatevi che chi si rassegna è perduto